Reggie Jack non sono due tacchini come gli altri insieme hanno un solo obiettivo salvare i loro simili e cambiare il menù della storia dai produttori di Shrek una nuova entusiasmante avventura tutta da vivere con l'esperienza della terza dimensione free birds tacchini in fuga in prima visione questa sera le 21 e 10 su sky 3d e sky cinema 1 hd